in questo tratto ci sono anche diciamo forniamo anche pasti caldi qualche cosa diciamo di caldo specie quando è la notte e questo non lo facciamo soltanto noi ma lo facciamo tutte le associazioni di volontariato che sono presenti qua che quando siamo qua dobbiamo ricordarci che tutti lo facciamo per un unico scopo essere volontari aiutare il prossimo non dobbiamo dire soltanto sono croce rossa ma dobbiamo cercare di far capire a tutti che siamo qua e vogliamo aiutare veramente il prossimo perché lo facciamo veramente per spirito di volontariato mi consegnavano una bimba che non poteva avere neanche due anni la mamma mi tocca e me la dà nelle braccia la cosa che mi ha toccato la bimba che nessuna bimba se non conosce non va nelle braccia di un'altra persona invece questa bimba me la sono sentita come messa tra le mie braccia come se avesse il suo corpo avesse ceduto dicendo a finalmente trovo serenità sono su braccia sicura quando ci sono stati 29 morti i 29 ragazzi la guardia costiera è approdata qui io vedevo questi ragazzi appoggiati in un l'altro come se fossero stanchi dal viaggio li guardavo mentre uscivano altri altri ragazzi da allora cercavo di capire cosa stava succedendo ho chiesto a un ragazzo della guardia costiera detto come mai non diamo lui mi ha guardato negli occhi diretto e allora lì ho capito che non ce l'avevano fatta ma è una cosa non riesco ancora a spiegarmi ma credo che è anche un po l'aiuto di mio figlio che mi spinge a non mollare forse mi dà lui la forza di continuare